Sì, 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 perché non avevano firmato non uscivano, anche quelli che non avevano firmato non uscivano, anche quelli che non avevano firmato non uscivano, e quindi che differenza c'era, che differenza c'era, ma c'era il problema, il primo comandante, perché il primo comandante era tremendo, il primo comandante era un inglese, tremendo, un po' fattivo, il secondo era un sudafricano, il secondo comandante, che mi dicono che era un po' più elastico, sono le fotografie raggiunti, guarda, io vi dico, io adesso, Reggio Cinco, ho voluto dei romanioli, dove è andato? In una fattoria? Gioia, ero dalla Marenda, che erano presciuti in Mondria, con i cavalli e le basque, dove era questa fattoria? Sud Africa, sì, dove era meccanico. E l'altro? C'era un giardiniero. Ma perché i romagnoli? Perché loro? Dovravano bene la terra. Ma giù l'inglese, la prima terra mondiale, l'uno era romano, parlavano bene l'italiano, il colonnello era accisenatico, e quindi sapevo cosa sia. Ero con l'artiglieria, con l'artiglieria... Non mi ricordo il nome del suo nome. Eh, non me lo ricordo. Il suo nome, qual è? Il mio. Spada, Spada.